Qual è uno degli argomenti più importanti della nostra epoca? La produzione mondiale di plastiche nel 2018 è arrivata fino a 360 milioni di tonnellate, un incremento di circa il 3,3% rispetto all'anno precedente, e di cui il 17,2% sono prodotte in Europa. Si stima che nell'ambiente siano disperse attualmente circa 5,5 trilioni di particelle di plastica. Recenti studi sul lago Trasimeno, uno dei laghi di maggiore estensione del nostro territorio, con circa 128 km2 di superficie, hanno dimostrato la presenza media di 9.400 particelle di plastica per km2, un incremento di circa il 16% rispetto al 2017, e che suggerisce che l'inquinamento di particelle di plastica interessa anche le acque interne. Ma questo problema come interessa invece direttamente l'uomo? Attraverso la fotodegradazione e la degradazione meccanica della plastica macroscopica, vengono prodotte quelle che sono definite microplastiche. Le microplastiche hanno una dimensione inferiore a 5 mm, ed essano particolare attenzione per due motivi. Innanzitutto gli inquinanti organici, che sono adesi ad esse, possono essere trasferiti attraverso l'ingestione degli animali, attraverso la catena tropica fino all'uomo. Inoltre possono anche fungere da substrato per crescita di biofilm. I biofilm sono un assemblamento di comunità batteriche complesse, i quali possono anche contenere delle comunità batteriche di patogeni. A questo proposito si sa poco sulle conseguenze della colonizzazione batterica e sul destino delle microplastiche dell'ambiente. In effetti i batteri potrebbero avere due effetti sulla plastica. In primo luogo potrebbero biodegradarla e in secondo luogo potrebbero metabolizzarla per poi rilasciare sostanze tossiche nell'ambiente. E' quindi molto importante studiare quello che è appunto l'effetto della colonizzazione batterica, microbica, delle microplastiche, della loro presenza sia in ambito di acqua interna, quindi acqua dolce, che in ambito di acque marine. Grazie per l'attenzione.